Ben ritrovati amici di Unese Channel, torno all'appuntamento con Social Channel, anche oggi scandaglieremo il mondo del web per raccontarvi tutto ciò che ci ha regalato la giornata calcistica appena trascorsa. Parlo ovviamente dell'Europa perché ieri è terminata la giornata di Champions League, non con il sorriso per le italiane, soprattutto per la Roma che è uscita sconfitta all'Allianza Arena con il Bayern Monaco. Di questo, di Udinese e di tanto altro parleremo insieme a Stefano Giovampietro. Ciao Stefano. Ciao Fernando, eccoci qui appunto con l'appuntamento con Social Channel, ho preso il testimone da Chiara che ovviamente in queste due giorni è molto impegnata, ricordiamo tra l'altro che venerdì partirà la trasmissione a tutto quiz, la febbre del tifoso nel venerdì sera. Insomma, appuntamento più che mai imperdibile, però non ci siamo dimenticati tutto ciò che ha costruito Chiara in settimana e quindi avremo anche l'appuntamento con la statistica sui tradimenti che sappiamo ha generato una qualcerta curiosità, però ovviamente ce la terremo magari per il gran finale. Assolutamente sì, parleremo anche di quello, l'angolo gossip non lo dimentichiamo mai. Ma inoltre, proprio relativamente alle notizie di ieri, ci sono degli aggiornamenti, Bilà ed altre questioni che sono state dipanate. Però, come al solito, partiamo dalle cose importanti. Partiamo dall'Udinese, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Andrea Carnevale, che questa mattina ha parlato a Radio CRC al programma di Raffaele Auriemma, si gonfia la rete a Carnevale, comunque è stato anche un giocatore importante per quanto riguarda il Napoli. Qui si è concentrato principalmente sull'Udinese in questa intervista ed ha parlato del momento dei bianconeri. La sconfitta di domenica non cambia i nostri piani, Stramaccioni è un allenatore giovane e abbiamo piena fiuccia in lui, perché innovativo e molto intelligente. Auriemma, con un po' di malizia, aveva cercato di seminare il dubbio su una possibile permanenza di Andrea Stramaccioni qui in Friuli, è assolutamente certissima, non è in discussione, l'ha ribadito anche Andrea Carnevale. Poi ancora ha parlato del Napoli, diciamo di un Carnevale che è stato comunque un giocatore importante per la squadra azzurra, soprattutto sul fine degli anni Ottanta, ha giocato con Diego Armando Maradona e quindi la vittoria dell'Udinese sul Napoli ecco, un filino di amarezza in Carnevale l'ha lasciato. Mi dispiace dirlo, ma il Napoli ad Udine era giù di morale e l'Udinese ha avuto l'opportunità di batterlo. Dopo l'uscita alla Champions League sono emersi tutti i traumi e noi ne abbiamo approfittato. Ma ora è tornato quel grande Napoli, bello e spumeggiante, i calciatori azzurri hanno preso coscienza e le proprie forze ed è per questo che penso che possa combattere con Roma e Juventus per lo scudetto. Credo addirittura che il Napoli abbia qualcosa in più perché compatta e reattiva e poi l'attacco azzurro è incredibile. Caglia Eoni in particolare merita tutto il bene del mondo e sta facendo cose fuori dal comune. Infine chiusura sul calciomercato, ricorderai in estate a Stefano che Duvan Zapata era stato accostato ai colori bianconeri ed effettivamente Carnevale ha ammesso che l'Udinese ha un debole per questo giocatore. Zapata credo possa servire al Napoli, a me piace molto perché è uno che fa reparto a sé. Penso che stasera possa essere determinante per trascinare il Napoli alla vittoria, ma non dimentichiamo che lo Young Boys, che è la squadra che affronterà il Napoli quest'oggi in Europa League, ci eliminò due anni fa, purtroppo lo ricordiamo benissimo, per cui è una buona squadra compatta e dico al Napoli, attenzione, questo dunque è il resoconto di Andrea Carnevale che ha sottolineato come la squadra svizzera dello Young Boys sia sempre da prendere con le molle, qui in Friuli ne sappiamo qualcosa. Parole come al solito pronunciate a secco da Andrea Carnevale sul Napoli, soprattutto che è una delle quattro squadre impegnate in Europa League insieme a Fiorentina, Torino e Inter. Vi aggiorneremo anche su tutto quello che c'è da sapere sull'Europa League, però Champions perché protagonista in negativo di una bellissima partita per la Juventus è stato Vidal che al 93esimo ha avuto l'occasione di segnare un calcio di rigore importantissimo per lui, importantissimo per la Juve per andare avanti con la differenza reti negli scontri diretti, lo ha sbagliato, ennesima grandissima parata di Roberto, portiere dell'Olimpiakos, ma Vidal si è affidata a Twitter per caricare i tifosi e ha detto siamo la Juventus, non molliamo un C, puntini, puntini, non c'è differenza reti, passiamo il girone sicuro, tranquilli, forza Juve, così Arturo Vidal, il guerriero cileno della Juventus, ha voluto caricare tramite il proprio profilo su Twitter i suoi tifosi dopo il successo contro l'Olimpiakos. Ovviamente c'era anche chi aveva detto, insomma, perché non l'ha battuto Tevez, visto che in campionato, soprattutto contro la Roma, si era dimostrato molto freddo, abbattuto Vidal che sostanzialmente rimane il rigorista principale della Juventus, tematica che secondo me piacerà molto, interesserà molto ai nostri tifosi che fanno il fantacalcio, però comunque è un Vidal che non l'ha mandato a dire su Twitter, insomma, ho sbagliato il rigore ma non fa niente perché ha detto praticamente che la Juventus vincerà le prossime due partite e passerà il turno sicuro. Juventus che però nel frattempo si deve concentrare sul Parma, prossimo avversario, non è più ultima perché è stata rivitalizzata dall'Inter di Mazzarri con la doppietta di De Ceglie e la vittoria sui Nerazzurri e verso Juventus Parma ci fa sapere il profilo Twitter ufficiale della squadra Ducale, squadra impegnata in palestra sotto la pioggia, corre Mattia Cassani ed è anche una notizia importante per quanto riguarda il giocatore che era stato operato chirurgicamente alla schiena per un problema vertebrale, assolutamente fa bene rivedere il giocatore che corre, altro giocatore che pian piano sta riprendendo confidenza con il campo e con il pallone, paletta, ricordiamo uno dei tantissimi infortunati del Parma, ci aggiungiamo anche Biabiani con una ritmia cardiaca, sicuramente stagione sfortunata sotto questo punto di vista. Infine un altro focus statistico sulla Champions League perché Luis Adriano ha battuto Inzaghi per quanto riguarda un record, 9 è il numero di Luis Adriano, è il primo giocatore a segnare 9 reti nelle prime 4 partite di UEFA Champions League, uno in più di Pippo Inzaghi nel 2002-2003, inarrestabile. Luis Adriano anche se di 9 gol non sono sicuro ma mi pare almeno 7 ne abbia fatti nella doppia sfida contro il Bateborisov che non è stato proprio avversario irreprensibile. Diciamo che Inzaghi le aveva spalmati un po' meglio ed è un inesimo record che va a perdere Pippo Inzaghi che ovviamente adesso ha ben altro a cui pensare e a proposito di record, ieri Messi è entrato almeno provvisoriamente nella storia con 71 reti segnate, ha agganciato Raul anche se piano piano diventerà un duello come al solito tra Messi e Cristiano Ronaldo. Eh sì, Cristiano Ronaldo che davvero non molla un centimetro, però continuiamo a parlare di Roma, quindi restiamo sempre sull'argomento Champions League, la Roma che ieri è uscita sconfitta per 2-0 dall'Allianz Arena ed è arrivata la dichiarazione di Rajan Ainggolan che a proposito di frasi a secco ci è andato dritto per dritto anche lui, oltre ai risultati del Bayern penso che stare secondo in questo girone è già tanto, niente impossibile, daglie, vediamo le cose positive. Questa la dichiarazione di Rajan Ainggolan affidata al suo profilo ufficiale di Twitter, ieri però proprio su Twitter Ainggolan è stato protagonista dell'ennesima lite con i tifosi juventini, te la vado a recuperare immediatamente, è purtroppo qualcosa che capita molto spesso al calciatore ex Cagliari che davvero non le manda mai a dire a tutti i suoi detrattori, Juve nel cuore 84, questo è l'utente che aveva scritto sulla sua bacheca, gli contestava l'episodio in cui Ainggolan ha cercato, ha chiesto un calcio di rigore in area del Bayern Monaco con Neuer che però effettivamente non l'ha toccato, Ainggolan nel posto partita ha ammesso che il rigore assolutamente non c'era, nonostante questo sono comunque arrivate alcune critiche su di lui da parte degli utenti di Fede Juventina con Juve nel cuore 84 che appunto gli scrive non sei in Italia dove ti regalano i rigori e Ainggolan ha risposto immediatamente piccato, ne sai qualcosa? Gli ha fatto questa domanda che direi anche lecita insomma perché i tifosi juventini, la Juventus in generale da sempre si trascina questa piccola macchia endemica che ha appunto dei favori arbitrali, comunque poi Ainggolan ha ricevuto anche la solidarietà da parte dei suoi tifosi ma anche in generale del mondo di Twitter, ad esempio Peppe Caruso gli scrive ma se l'ha detto pure lui che non era rigore perché creare polemica e poi ancora tantissimi altri commenti, non possiamo leggerli ovviamente perché alcuni sono irripetibili comunque ingiuriosi nei confronti della società Juventus, qui era un suo tifoso che ha cercato di punzechiare Ainggolan che però come al solito non si è tenuto uno spillo, però dobbiamo dire che rispetto al passato quantomeno è stato più signorile rispetto ad altre uscite. Beh sicuramente Ainggolan che come hai detto giustamente tu non è nuovo a queste diatribe insomma su Twitter non si sottrae mai poi ovviamente diciamo c'è il detto famoso poi al di là della vostra parrocchia magari anche i tifosi juventini che ci stanno seguendo però insomma ha dato l'impressione del bue che diceva Cornuto all'asino perché insomma si è tanto parlato di Rocchi, abbiamo visto ultimamente un video assolutamente particolare che forse non è nemmeno troppo bello da vedere, degli insulti a Rocchi all'aeroporto di Roma insomma ce ne sono state di tensione, non c'era motivo di andare a stuzzicare però è anche il bello e il brutto di Twitter diciamo che è sostanzialmente il social network dei volti popolari, dei volti noti, ogni tanto il tifoso medio va a stuzzicare il giocatore noto che magari non dovrebbe cascarci come ha fatto Unicesus l'altra volta però ci sono alcuni giocatori che non se ne tengono dentro. Come non si tengono dentro una bella coesistenza Matri e Piniglia perché assolutamente loro sono alternativi, usati praticamente quasi mai insieme Gasperini però giocano entrambi comunque con la grande voglia di fare bene, siamo in un grande gruppo hanno detto, i risultati lo dimostrano, hanno in passato loro anche un passato comune a Cagliari, vediamo appunto le parole dei due Rossoblu che torneranno in Sardegna, ora c'è il Genoa per noi e sull'isola ci torneranno domenica appunto da Seste in classifica, la nostra forza è il gruppo, a Udine abbiamo giocato, giocato tra l'altro scritto due volte con molta aggressività e domenica proveremo a fare lo stesso, a me c'è di nuovo piace piace, problemi con la stesura dell'articolo, a me piace giocare in velocità attaccando gli spazi, il gioco di Gasperini facilita il compito questo, facilita facilita facilita, no ti prego, vabbè basta chiudiamo perché mi sta venendo il mal di testa, comunque abbiamo detto a Matri e Piniglia che si sono spartiti i gol, Matri sta giocando un po' di più di Piniglia ma entrambi i giocatori quando vengono chiamati in causa fanno ottime cose e ai noi ne sappiamo qualcosa abbiamo visto domenica, poi una parentesi seria per l'altra Genoana che dedica un tweet alla ricerca, scendiamo in campo dice la Sampdoria per airc.it, mandiamo tutti un sms al 45503 io ci sono, un gol per la ricerca ovviamente messaggi assolutamente positivi che arrivano anche dalla rete e poi abbiamo anche delle parole di un altro ex bianconero per Eira che dice di adattarsi al modulo, l'abbiamo visto anche terzino al posto di Asamoah in una difesa 4 contro l'Olimpiacos, quindi gioco bene qui dice Perera sia da trequartista che da mezzala assolutamente un altro acquisto azzeccato da parte della Juventus dalla fucina di talenti dell'Udinese ma non avevamo dubbi, comunque lo avevamo visto l'anno scorso giocare sempre molto bene così come gli altri anni e queste le parole, la partita contro l'Olimpiacos è stata dura come tutte le gare di Champions League ma la squadra ha giocato bene e abbiamo vinto, abbiamo risposto bene anche con la difesa 4, sono contento e orgoglioso per la convocazione con l'Argentina e mi fa piacere ritrovare appunto nell'Albi Celeste anche Carlitos Tevez, quindi due Juventini che tornano a vestire la maglia dell'Argentina 4, la convocazione di Perera, ne parlavamo anche con Maurizio Ferrari quando è stato co-conduttore con me di Social Channel, convocazione di Perera che è arrivata in maniera fulminia non appena si è trasferito alla Juventus, quando in realtà la qualità della prestazione di Perera forse era anche superiore quando giocava ad Udine, però insomma sono questi i piccoli giochetti del calcio moderno e per cui bisogna anche sottostare a quelle che sono le leggi non scritte delle nazionali. Comunque parliamo di Inter, parliamo di Nbilà, ieri vi avevamo presentato la notizia del francese che lunedì non si era presentato all'allenamento, anzi era completamente sparito, non aveva dato sue notizie e poi con il passare del tempo la situazione era rientrata, Nbilà aveva comunicato di aver perso l'aereo che da Parigi avrebbe dovuto riportarlo a Milano e il caso sembrava rientrato, effettivamente oggi Nbilà ha messo il punto definitivo con una dichiarazione sul suo profilo ufficiale di Facebook, dichiarazione in francese, noi qui ci siamo a Bazzi e la traduzione di tuttomercatoweb.com, ho dovuto fare andate e ritorno a Parigi per ragioni familiari, ha detto Nbilà e quindi accompagnare i miei bambini che non potevano viaggiare senza di mail, poco tempo a disposizione e un contrattempo dovuto ai controlli di sicurezza in aeroporto mi hanno costretto a prendere l'aereo successivo e questo ha fatto sì che io non fossi presente alle terapie di lunedì mattina, il club ha capito la situazione, ho bisogno ancora di una decina di giorni per poter tornare in campo dopo il mio infortunio al ginocchio, pazienza, non vedo l'ora di tornare in campo, grazie a tutti per il sostegno, dunque dichiarazioni piuttosto chiarificatrici a parte di Nbilà, Nbilà che è stato acquistato a giugno soprattutto da Piera Osilio che ha puntato fortemente su di lui, Nbilà che lo ricordiamo ha appena 23 anni, Rupin-Gazzan sembrava essersi perso un attimino, in Francia era una promessa, poi qualche comportamento da bad boy, l'aveva un attimino tirato fuori dalla luce della ribalta, all'Inter non ha avuto modo di affermarsi soprattutto a causa di un infortunio al ginocchio che per il momento lo sta tenendo fuori dai giochi. Sì, diventa anche difficile credergli dopo quello che ha fatto con la nazionale francese però, gli concediamo quantomeno il beneficio del dubbio, non è grottesca come la situazione famosa di Maicon nel ritiro brasiliano, però insomma il sospetto viene sempre al di là di tutto, crediamo assolutamente nella buona fede di Nbilà, ci scherziamo. Sì, assolutamente sì, ci scherziamo, poi facciamo un'ultima chiusura sulla Roma così chiudiamo l'argomento, ieri che ha visto la partita si sarà preoccupato per le condizioni di Florenzi che è uscito anzitempo dal match per un infortunio alla caviglia, soprattutto il primo episodio che ha generato credo poi l'infortunio, dato che poi Florenzi è comunque restato in campo, ci aveva spaventato decisamente perché aveva fatto un movimento completamente innaturale, però eccolo qui, sospiro di sollivo per lui, escluse fratture e lesioni legamentose per Alessandro Florenzi, centrocapista della Roma, scrive tutto mercato web a riportare l'esito degli accertamenti clinici e l'emittente Sky Sport, per il giocatore dunque solo una contusione, per fortuna perché c'eravamo davvero preoccupati, Florenzi che comunque è molto importante anche in ottica nazionale, ora che c'è la sosta avrà modo di dimostrarlo, Florenzi che a questo punto, a scazzo di colpi di scena, dovrebbe essere convocato da Antonio Conte per i prossimi impegni. Eh sì, assolutamente sì, lo aspettiamo con la maglia azzurra, per fortuna nulla di grave, mentre qui ti faccio vedere una foto sul nostro PC con le tante cose messe in vendita, si capirà di chi dalle magliette, dal portiere inglese James, meglio noto come Calamity James, insomma guardate, sta vendendo praticamente tutto perché non è una notizia particolarmente bella, è finito in bancarotta, 20 milioni di sterline in carriera, James dichiara bancarotta all'asta tutti i suoi effetti personali e quindi effettivamente una notizia triste e anche difficile da capire perché assolutamente dopo una carriera come la sua arrivare in bancarotta sembra difficile, lo scorso maggio James aveva dichiarato bancarotta a causa di quel divorzio assai oneroso dalla ex moglie Freyne. Ora la soluzione per ovviare alla cospicua perdita è, come abbiamo detto, vendere tutto e assolutamente non una bella notizia per l'ex portiere dell'Inghilterra e a proposito di Social Network, uno dei più utilizzati, comunque il metodo di messaggistica ormai più utilizzato assolutamente nel mondo, oltretutto si autoaggiorna quindi le avrete anche voi, si parla tantissimo delle spunte blu e per farvi capire comunque ho trovato una foto molto divertente che prende un film in bianco e nero, I love you, la risposta della signora è questa, la doppia spunta blu Audrey Hepburn che sta diventando il timore di chiunque perché comunque se prima si poteva tra virgolette fare i vaghi con il telefono, magari leggere un messaggio e dire rispondo dopo o non rispondo, prendendosi tutti gli insulti del caso perché poi c'è l'ultimo accesso online, eccetera, eccetera, diventa sempre più difficile tra virgolette nascondersi quindi state attenti su Whatsapp alle due spunte blu che possono fare la differenza Questa è una vignetta che era stata già ripresa quando Facebook aveva introdotto il visualizzato e ora ovviamente è stata riproposta con la doppia spunta di Whatsapp, Audrey Hepburn la faccia di Audrey Hepburn è assolutamente straordinaria e chiarificatrice soprattutto del benefreghismo della situazione. Ad esempio tu Fernando, mandi un messaggio al prof Giorgio Alaphogiannis, caro Giorgio, voglio una maglietta di Zielinski e ti fa spunta blu e non te la porta, vuol dire che comunque l'ha letto il messaggio, non stiamo scherzando ovviamente il prof risponde sempre subito ai nostri messaggi, ecco qui parlavamo di Zielinski perché dobbiamo commentare un paio di cose, allora il prof è a Empoli perché è stato a Firenze a tradurre le interviste pre-gara con il PAOC, Fiorentina ci sarà anche nel post ovviamente si è concesso una girempoli, c'è il nostro bel Piotr che adesso sta giocando sempre più a titolare, c'è Aguirre che sorride ovviamente anche se non ha trovato occasione di esordire, ma dobbiamo parlare di questa capigliatura di mano. Emanuele Rovini con i capelli alla Cristiano Malgioglio chiaramente, è chiaramente un omaggio allo storico paroliere di Mina. Tu parla e io vado a trovare Malgioglio. Tu vai a trovare Malgioglio comunque il caro Emanuele Rovini che comunque ci è rimasto nel cuore l'anno scorso capitano della primavera per chi non lo conoscesse, autore di tantissimi gol con la maglia della salazione giovanile allenata Luca Mattiusi, eccolo qui vedo che l'hai recapitata è chiaramente lo stesso taglio di capelli. Allora facciamo vedere Malgioglio e poi passiamo immediatamente su Rovini ed effettivamente li porta con più nonchalance diciamo mano però assolutamente gli faremo una telefonata per capire. Assolutamente sì, chiaramente dobbiamo segnalargli questa somiglianza, questo omaggio che si è sentito di fare al Cristiano Nazionale, insomma Malgioglio che è famosissimo comunque per quello che riguarda soprattutto il piccolo schermo e poi viene ancora un'altra foto del prof che alla fine l'ha recuperata, l'ha recuperata, l'ha recuperata non per portarla a Fernando ma credo per tenersela e oltretutto Zielischi che ricordiamo soprattutto a causa dell'infortunio di Verdi nell'Empoli andrà verso la terza partita titolare consecutiva contro la Lazio partita non facile gli auguriamo ovviamente magari di sbloccarsi, se lo merita sta giocando davvero molto molto bene Piotr. Piotr Zielischi, allora adesso invece dedichiamoci uno spazio solo per noi, solo per noi maschietti però sempre legati all'Udinese, soprattutto ai prossimi appuntamenti. Non lo facciamo perché ci piace, ma perché c'è il pallone di mezzo. Insomma è inutile mentire, non ci prendiamo in giro però ecco Stefano io non so se tu andrai o meno a Belgrado però ecco la tua fidanzata quando vedrà questa foto sicuramente forse ci penserà un pochino come saprete l'Udinese settimana prossima sabato 15 novembre sarà impegnata nella Michaeola di Lusso con la Stella Rossa. Distruggi le prove! al Maracanà di Belgrado e questa sarà molto probabilmente la signorina che accoglierà sia i calciatori dell'Udinese ma anche noi di Udinese Channel. Credo a questo punto lei è la reporter della tv ufficiale della Stella Rossa quindi noi abbiamo Chiara Perale, ci tocca Chiara Perale invece loro hanno Katarina Screcovici. bisogna tenere al guinzaglio Ferrari. Dobbiamo avere chiaramente al guinzaglio Ferrari che credo che non saprà gestire una situazione del genere, il buon Ferrari che sicuramente cercherà l'approccio con la signorina Katarina Screcovici, lo ripetiamo, 25 anni che però per la sua bellezza ha rischiato di perdere il posto di lavoro, questo è chiaramente un problema che abbiamo vissuto tutti noi di Udinese Channel, caro Stefano. Tu perché sei troppo bello, io perché sono troppo bello, schiavi ovviamente per lo stesso motivo, i giocatori infatti non riuscivano a concentrarsi negli allenamenti con la bella mora ad osservarli in panchina, tutte le foto sono tratte dai social network, eccola qui Katarina, qui siamo su gazzetta.it, andiamo ancora avanti per mostrarvi davvero la bellissima reporter di Stella Rossa TV, a questo punto inizio quasi ad invidiarvi, eccola qui, davvero molto molto carina, Katarina Screcovici, 25enne, l'hanno chiesto anche a loro la maglietta, non solo a Zieris. Assolutamente sì, credo che il successo sarà stato. E la signorina potrebbe essere un motivo di tradimento, perché siamo arrivati quasi nel finale e dobbiamo parlarne, non so se c'è il nostro jingle pronto. In realtà mi sa di no, mi sa di no, lo facciamo noi, fai tu la colonna sonora di… peggio di così, non poteva andare, abbiamo, grazie all'aiuto di Chiara Perale che ha lavorato ininterrottamente tutta la giornata di ieri, per trovare l'articolo che spiegasse di più il tradimento, perché, ne abbiamo parlato tra l'altro anche nel fatto di qualche giorno fa, l'Italia dei tradimenti. Roma è la capitale delle scappadelle, ecco qui, città eterna, uno si fa affascinare dalle bellezze di Roma e mette in crisi un matrimonio mentre nel nord Italia la fedeltà di coppia è a rischio i partner del Meridioni non cedono alle tentazioni quindi l'uomo del sud è ligio al dovere mentre nel nord la fedeltà di coppia si dice che è un po' a rischio a quel punto però sarebbe anche da capire gli uomini del sud che vengono al nord se mantengono alta questa statistica ecco ce n'è un esempio in studio come vedete l'uomo del sud è trapiantato al nord ok ma io saprai benissimo che non ho vincoli mentre magari tu che sei uomo del sud a questo punto la cara Roberta potrebbe farsi qualche domanda assolutamente no stiamo chiaramente scherzando tanti anni di grande fedeltà se dovessi stare ad ascoltare Roberta mando un bacio a casa allora continuiamo a leggere perché anche se c'è chi ritiene che le relazioni extraconiugali siano da condannare nel 2014 in molti si stanno comportando all'opposto si tradisce spesso e sempre di più Roma è la città più infedile d'Italia dove la scappadella è quasi di prammatica quasi di prammatica medaglia d'argento e di bronzo su questo podio adulterino si collocano Milano e Torino al sud invece sono molti meno di quelli che provano il brivido di un'avventura extraconiugale c'è tra l'altro una mappa con Roma al numero uno abbiamo poi Milano, Torino, al quarto posto Napoli non è la classifica della Serie A ricordiamo è la classifica dei tradimenti al quinto posto Brescia al sesto Treviso settimo Padova ci stiamo avvicinando alle nostre zone ottava Bari non a Bologna decimo Palermo ci fa piacere che non appaia Udine in questa graduatoria molto particolare io sono un professionista dell'adultere mentre leggevo questa frase a diffondere la notizia Ashley Madison il portale di incontri extracomunicali quindi non è una notizia campata in aria che conta oltre 25 milioni di iscritti in circa 37 paesi ma dice ma chi sono gli affezionati della scappadella dell'ospedale? perché questo ci interessava chi sono? se sono gli uomini a tradire di più una quota di colpe delle donne i dati parlano chiaro gli uomini rappresentano il 56% degli infedeli hanno in media oltre 40 anni hanno una laurea in tasca addirittura attenzione ho un diploma 21% e sono alla ricerca di una donna che incarna il mito di Scarlett Johansson bionda, burrosa e disinibita in questo match point di Woody Allen ha fatto dei danni inauditi assolutamente nella vita sono nella maggior parte dei casi manager informatici o dipendenti statali con buona disponibilità economica non rientriamo in nessuna di queste categorie tranne la laurea in tasca tranne la laurea esatto anche io poi tutto il resto a partire soprattutto alla buona disponibilità economica e le donne non lo fanno sono più discrete perché si preoccupano del giudizio altrui il popolo femminile rappresenta il 44% dei traditori ma la percentuale sale al 48% nelle grandi città in media hanno 38 anni lavorano nel marketing nel settore bancario o delle vendite laureate o diplomate hanno un rendito nella media spesso si concedono una scappadella perché vogliono sentirsi desiderate e i loro bisogni emotivi non sono appagati dal partner in altri casi semplicemente amano il sesso e non vogliono privarsene tradiscono i loro compagni giustamente con gli uomini dai 40 ai 55 anni di cui abbiamo parlato prima castani alti e muscolosi ed economicamente indipendenti quindi se arrivate a questa soglia di età palestra capelli castani e via tutte le donne se non avete una laurea e iniziate a studiare perché è un chiaro obiettivo insomma per ottenere quello che volete nel caso in cui insomma il desiderio sia quello di una scappatella anche oggi siamo riusciti a chiudere in una maniera chiaramente non dignitosa perfetta direi meglio di così non si può dire perfetta è chiaramente un parolone che non ci si addice noi torniamo domani sempre allo stesso orario sempre qui su Udinese Channel promesso con qualche argomento decisamente più interessante a domani grazie 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 grazie